il fascismo di oggi è solo il risveglio della morte testimonianza di lorenzo falco nato a vignolo classe 1923 contadino e operaio a 11 anni sono andato la prima volta da vachè a tetti pesio dall'aprile fino a novembre 50 lire per la stagione nel 1942 non trovavo lavoro ero senza soldi allora sono andato sul mercato di cariglio ad affittarmi ho trovato un padrone di levaldigi un mezzadro che conduceva una cascina di 80 giornate la cascina dei tetti nuovi 60 le bestie nella stalla tra vacche e maiali 6.300 lire di paga da marzo alla vigilia di natale lì mangiavo solo dei grammi nestioni di fagioli c'era molto lavoro non mi sono mai tolto i pantaloni a dormire in dieci mesi i padroni erano molto religiosi con l'autunno dicevamo il rosario tutti insieme nella stalla 15 misteri io mi addormentavo sempre da in piedi guai se avessero sentito una bestemmia lì ho imparato a dire crustu e sacratu tutte le feste ero obbligato ad andare alla messa mi sedevo in un banco e mi addormentavo guai a parlare a una ragazza non avevo mai un soldo in tasca e poi non c'era mica il tempo di pensare alle morose nel 1943 sono andato soldato nella guardia alla frontiera prima briga poi attenda attenda mi ha sorpreso l'armistizio sono scappato sono tornato a casa ma a casa non si poteva più vivere dormivo una notte a casa e due notte fuori nei casotto nei boschi tutti gli ex soldati e tutti i giovani sotto leva dovevano vivere così nella primavera del 1944 per non più fare questa vita decido di andare in montagna con i partigiani prima raggiungo pianche poi vado sopra valoriate a tet diule con i partigiani di ginetto renaudo infine mi sposto in valle grana nella notte tra il 26 e il 27 novembre i repubblichini della littorio accerchiano il mio distaccamento su ai foresti c'è un metro e mezzo di neve e restiamo intrappolati all'alba del 27 mi prendono prigioniero assieme a michele bruno di bernezzo e a giorgio viale di cuneo ci portano a pradleves dove vedo anche molti tedeschi danno fuoco a un albergo poi ci mettono al muro noi tre e altri prigionieri fingono di fucilarci infine ci portano alla castiglia di saluzzo dopo alcuni giorni tedeschi riuniscono una quarantina di noi prigionieri ci trasferiscono a torino alle nuove non sappiamo se vogliono fucilarci o deportarci in germania lì un fascista mi interroga in presenza dei tedeschi mi chiede perché all'atto della cattura ero armato gli rispondo piuttosto di farmi prendere dalle camicie nere mi dà un pugno cado a terra lungo e disteso il fascista parla il piemontese come lo parlo io e si comporta duramente per farsi bello di fronte ai tedeschi poi i tedeschi ci indrappellano siamo una lunga fila di prigionieri ci portano alla stazione ci chiudono nei vagoni bestiame il treno parte nessuno di noi sa dove andremo a finire ogni cinque minuti passa un tedesco a controllarci tutti i tedeschi che ci scortano hanno i cani puliziotto il viaggio dura tre giorni da mangiare ci danno solo un po di pasta di acciughe niente acqua da bere così la sete ci divora arriviamo a bolsano il nostro campo di concentramento è circondato da un muro alto nella mia baracca c'è un prete che è deciso a scappare sta scavando un tunnel sotto il muro di cinta con un lavoro da trapun scava come una talpa ma un avvocato di bologna un uomo di 60 anni fa la spia allora i tedeschi prendono tutti noi della baracca saremo una sessantina e ci chiudono in un recinto come tante galline in un pollaio non ci danno niente né da mangiare né da bere tre giorni e tre notti al freddo siamo tutti gelati qui moriamo tutti ci diciamo i tedeschi vogliono che i responsabili del tunnel si autodenuncino infine un giovane della mia età alza la mano si prende lui la colpa allora ci riportano una baracca nel blocco e infine ci caricano su una tradotta siamo come le bestie uno sull'altro nei vagoni i bisogni li facciamo lì l'avvocato di bologna la spia è su un altro vagone non sul mio so soltanto che i prigionieri l'hanno subito ammazzato quattro giorni di viaggio e arriviamo a mauthausen lì ci prendono i pochi bagagli ci obbligano a svestirci buttiamo i pantaloni qua e la camicia là non ci danno nemmeno una coperta ci consegnano soltanto una camicia e un paio di pantaloni dei loro ci perquisiscono ispezionano il nostro corpo ci guardano in bocca se vedono delle protesi in oro le strappano via cercano gli anelli le catenine gli orologi ci guardano tra le chiappe c'è un tedesco che con due dita ci apre le chiappe e guarda che non ci sia magari un anello nascosto lo giuro sulla memoria di mio padre di mia madre che i tedeschi si comportavano così ci lasciano alcuni giorni nel freddo siamo mezzi nudi congelati niente da mangiare poi ci mandano al lavoro nella mia squadra ci sono due russi e un polacco sono fortunato ho imbattuto bene dobbiamo portare dei pezzi di ferro alle macchine che fabbricano i caricatori dei fucili il vitto consiste in un bicchiere di brodo di rape al mattino e un bicchiere di rape alla sera non possiamo assaggiare l'acqua dicono che avvelenata ne muoiono tanti gente che non sentiva nessun male ma poi crolla all'improvviso poi tu stai discorrendo con un amico lo vedi che cade giù morto vai a dormire alla sera al mattino ne trovi tre qui e due là morti sui tavolacci dei castelli senza mangiare senza bere come si può andare avanti siamo tutti degli scheletri e se protesti se sul lavoro scambi una parola con un compagno ti condannano subito a 25 nerbate di bue arriva l'SS come come e ti rifila le 25 nerbate è toccata anche a me questa punizione per 15 giorni non riuscivo più a camminare la mia schiena era nera come un cappello una volta per dare un esempio hanno preso uno di torino l'hanno messo a testa prima dentro è un mezzo fusto di acqua l'hanno quasi affogato poi l'hanno ucciso anerbate era il giovedì di pasqua del 1945 oggi spetta a te domani spetta a me pensavamo nessuno di noi si sognava di uscire ancora vivo i forni crematori fumavano giorno e notte molti li facevano morire con i gas oppure con la mitraglia ma i più li facevano morire di deperimento vedevi solo i carri a gabbia che caricavano morti e voilà ogni mattina si buttavano fuori dalle finestre delle baracche i morti della notte non esisteva più alcuna pietà nella mia baracca eravamo 80 ci siamo salvati in due michele bruno il partigiano di bernezzo era del 1921 l'hanno portato nell'infermeria è morto là nel giro di 15 giorni sono morti un padre e i suoi due figli il padre ha visto i figli a morire è morto l'ultimo ma ai morti se erano vestiti meglio di noi portavi già la camicia o gli zoccoli più nessuna pietà voilà eravamo così deperiti che non pensavamo più a niente poi sono arrivati gli americani a liberarci le ss erano già scappate ci siamo buttati sui mucchi delle immondizie a cercare le bucce di patate se nel magazzino trovavamo ancora una pagnotta di pane si buttavano in 50 a tuffo io l'ebreo che era il nostro interprete e un valdostano abbiamo riempito una gavetta di quella immondizia marcia poi siamo usciti dal campo abbiamo raggiunto l'ins all'ins ho incontrato uno di caraglio che adesso abita a bernezzo dove fa il polivendolo lui era stato prigioniero militare mi ha dato da mangiare un po di caffè e di latte ma poco se no scoppiavo poi con una tradotta sono arrivato fino a bolsano lì venivano i camion dalle province a prelevare i prigionieri ho aspettato che arrivasse anche un camion della provincia di cuneo quando ero in montagna da partigiano pesavo 82 chili adesso ne pesavo 27 era uno scheletro solo pelle e ossa finalmente ho trovato un camion della provincia di cuneo a bolsano e poi tutto dove il camion sostava volevano ricoverarmi in un ospedale ma io niente io piangevo io scappavo e loro mi rincorrevano e mi riafferravano per gli stracci io volevo morire a casa eh l'ho sbagliata se mi avessero ricoverato in un ospedale oggi avrei una pensione di guerra e invece ho niente il camion mi ha portato fino al punto della mia poco oltre il sanatorio carle lì abitava una mia madrina sono sceso dal camion ma non mi reggevo in piedi mi sono seduto lungo la strada passa un mio amico mario malabocchia che oggi fa il meccanico alla polizia ciao mario gli dico ma chi sei sono renzo ma tu sei renzo sì sì sono renzo fammi un piacere non posso più camminare portami dalla mia madrina mi ha caricato sulla canna della sua bicicletta mi ha portato dalla mia madrina lei sì che mi ha riconosciuto subito mi hanno steso sul letto poi sono arrivati Carluccio e Battistino e anche loro mi hanno riconosciuto poi è arrivato un mio cugino di vignolo mi ha caricato sul suo birroccio mi ha messo su come un cicio come un bamboccio e mi ha portato a vignolo o c'era tutto il paese ad aspettarmi c'era tanta gente come nel giorno del festino forse era il 29 giugno era nella stagione del grano ho incominciato a mangiare dieci volte al giorno poco per volta se no scoppiavo ero come un bamboccio ero ebbete l'emozione mi rendeva come un rimbambito venivano gli amici a trovarmi io li guardavo per ore ore in silenzio senza parlare mi sono occorsi due anni perché mi riprendessi un po ma non voglio più parlarne di Mauthausen non voglio più pensarci il passato è il passato le rare volte che parlo che ricordo il mio passato poi di notte sogno Mauthausen che cosa penso del fascismo di oggi non triunferà più almeno qui da noi nel meridione non so qui da noi il fascismo ha procurato troppi danni troppe sventure il fascismo di oggi è solo il risveglio della morte